shalom 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 prima di iniziare questa lezione questa breve lezione voglio ringraziare e dare tutti i lodi dovuto al padre jahua nel nome di suo figlio il nostro re rendentore jahua shai miei doppi onori agli apostoli e anziani della great new stone per avermi insegnato questa verità e come sempre mi saluti ai eletti della casa di israele a coloro che stanno lavorando nella vinia in questi ultimi giorni spargendo la verità ai quattro lati della terra e a coloro che con sincerità cercano questa verità volevo condividere un articolo che mi aveva mandato un H che vuol dire un fratello prima e questo articolo qui si vede sul messaggero ok ed è di oggi 24 di dicembre dove è la data ora non la vedo dunque è di 24 si vede sul messaggero e di oggi e dice covid la fondo di guarinielo chi non si vaccina può essere licenziato eccoci qui fratelli to quello che eccolo qui la data è di giovedì 24 parole dure parole chiare tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone anche nel caso del vaccino contro i tutti essi sto dicendo tutto mi sa che a presto mi bloccheranno dice raffaello guarinello precisando che non è un'indicazione morale è cioè che provvede la legge il principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge è previsto dalla costituzione spiega il magistro il magistrato ok vedete queste sono le cose che attraverso il padre jahua che ci ha insegnato attraverso i suoi apostoli della great milestone gms abbiamo predicato queste cose da tanto da tanto tempo ed ecco ci siamo arrivati già perciò siate pronti fatevi forti intanto coloro che non sono destinati ok ad avere questa verità saranno come delle pecorelle davanti alle porte a prendere il macino per primi ok e sapete già cosa c'è dentro basta vedere i video che ho fatto precedenti per capirne di più ho pensato di condividere questo così vedete che tempi siamo e saranno tempi davvero duri aspettatevi un 2020 2021 davvero durissimo nel 2021 la gente penserà ai giorni buoni passati di 2020 e vorranno che tornasse dietro il 2020 ok perciò fatevi pronti sarà davvero brutto il tempo della distesa di Giacobbe è qui alle porte cambiate ok siate onesti con voi stessi perché ecco qui se chi non ha questa verità non può reggere prenderà il macino e andrà avanti con la vita perdonate mio francesismo con la vita di merda che si sta facendo ora ok siamo sono coloro che conoscono le parole del padre ok e lo mettono in pratica al meglio della loro capacità che saranno salvati ok perciò ecco qui vedete per l'ennesima volta sarà obbligatorio perché il processo si chiama gradualismo ok e se non lo prendete perderete il lavoro ok ora tiriamo fuori una scrittura che ho messo via qui che dice in isaia capitolo 33 versetto 6 i tuoi giorni saranno resi sicuri la savviezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione il timore dell'eterno jahua è il tesero è il tesoro di sion sion è un altro modo per dire di asherala così chiamato israele perciò vedete la conoscenza la savviezza ok la conoscenza è questa verità qui ok e la nostra ricchezza è quello che ci farà reggere ok sono quelli che renderanno sicuri i nostri giorni ok siete stati avvisati spero che il padre possa aprire gli occhi di qualcuno che è stato destinato oggi a vedere questa verità e spero che siete stati edificati do tutti i lodi al padre e la casa di israele alla prossima Shalom Shalom